La Capitaneria di Porto ha dichiarato guerra agli incivili che abbandonano pattini, pedalò e piccole imbarcazioni prive di motore. Sulla spiaggia di Focene è scattata dunque l'operazione congiunta tra personale della Guardia Costiera e Polizia Locale che prevede la rimozione immediata delle barche per favorire l'accesso sulla renile a chi ama passeggiare anche in inverno lungo la riva. Su una decina di natanti è stato apposto l'avviso che obbliga il proprietario a rimuovere l'unità navale entro sette giorni per occupazione abusiva di suolo demaniale. Trascorso tale termine la Task Force verificherà se il mezzo è stato trasferito in un rimessaggio autorizzato e in caso contrario affiderà la rimozione alla ditta comunale adibita al trasporto nel deposito giudiziario. Sul tema è intervenuto il comandante della Capitaneria Filippo Marini che ha spiegato oltre ad aver individuato le imbarcazioni e predisposto gli atti per la rimozione siamo intervenuti sulla bonifica della spiaggia nel tratto terminale di Viale della Pesca a Fiumicino di concerto con l'autorità di sistema portuale e il comune, ha concluso il comandante stiamo inoltre provvedendo alla bonifica delle banchine del porto canale dove sono stati tolti rifiuti urbani, tronchi e cavi di acciaio.